Finalmente si respira un'aria diversa, ci sono dei valori che prima erano scomparsi, oggi li abbiamo recuperati e mi sento anche comunque responsabile, vista la delega che ho, di ridare quello che la memoria praticamente era stata dimenticata cioè l'orgoglio dell'appartenenza, la continuità quindi dell'essere veneziano quindi non pensare soltanto a quello che eravamo ma finalmente ricordarci che esistiamo ancora e quindi che aspetta a noi ora continuare Dopo un periodo buio per Venezia è giunto il momento di risorgere parola di Giovanni Giusto che nei primi 100 giorni dall'insediamento della nuova giunta si è impegnato per risollevare quell'aspetto della città che era stato dimenticato troppo a lungo i veneziani potranno finalmente tornare ad avere le loro tradizioni Restituiamo le tradizioni ai veneziani ma soprattutto restituiamo anche quelle giornate che ai veneziani erano state negate Per esempio la festeggiare il patrono di San Marco sarà finalmente a Venezia possibile e grazie a questo grande cambiamento che vede proprio in questo i valori necessari per inorgogliere la nostra comunità Grazie